Presentato il progetto di collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Brindisi e la stazione ferroviaria, quindi la rete ferroviaria nazionale. Alla presentazione del progetto l'assessore regionale ai trasporti Giannini che adesso sentiremo nel nostro servizio insieme al ministro per il sud Barbara Lezzi e al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. Oggi abbiamo presentato il progetto di collegamento tra la stazione di Brindisi e l'aeroporto di Brindisi che in realtà attraverso la realizzazione di due bretelle metterà in collegamento con l'aeroporto di Brindisi anche le città di Lecce e Taranto. Un modello di intermodalità perfetta che si completa con l'altro modello di intermodalità sempre nella città di Brindisi tra il porto e la linea ferroviaria e che metterà anche in sinergia il porto di Brindisi e l'aeroporto di Brindisi con il porto e l'aeroporto, il porto di Taranto e l'aeroporto di Grottaglie. La Puglia è all'avanguardia sotto questo profilo, è l'unica regione in Italia in cui esistono i collegamenti diretti tra le stazioni ferroviarie e gli aeroporti esistenti, così si creano le condizioni per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio.